Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e bentornati in un nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti Eccomi finalmente tornata con un nuovo video Try On All Shein, anzi io lo chiamerei Mega Perché io qui ho tantissimi, tantissimi capi da provare assieme a voi E non vedo l'ora di farvi vedere che cosa scoviamo all'interno di questi sacchetti Quindi se siete curiose, ovviamente, io vi aspetto dopo la sigla Ok ragazzi, eccomi finalmente tornata con un video All Shein Sono molto contenta di girarlo assieme a voi perché mi sono arrivati tantissimi capi che voglio assolutamente provare E utilizzare ovviamente, certo che sì Ovviamente questo è un video sponsorizzato da Shein che mi ha mandato tutti questi capi gratuitamente Io li ringrazio sempre tantissimo perché adoro i loro prodotti E cambiare sempre outfit mi piace veramente tantissimo Non badate stamattina al mio aspetto Ho queste labbra che sono devastate Io non lo so, non mi sembra di aver preso aria o freddo Però guardate, sono, cioè io ho dell'olio su L'ha già assorbito tutto ovviamente ma Cioè ho dei tagli allucinanti No comment, ogni tanto lo sapete che annualmente mi succede questa cosa di avere le labbra Così tanto screpolate Pazienza, ce lo faremo andare bene Ma prima di iniziare il video e vedere ovviamente che cosa mi ha inviato Shein e che cosa ho scelto Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti E di attivare la campanellina così sarete sempre avvisati dei nuovi video in uscita Inoltre vi ricordo di seguirmi sui social In particolar modo io vi chiedo di seguirmi su Instagram e mi trovate come Orsottopotto 88 Se vi fa piacere anche io vi lascio giù in infobox Uno sconto, lo sconto solito del 15% Senza minimo di spesa io ve lo lascio giù in infobox E soprattutto vi lascio tutti quanti i link di riferimento ai prodotti che vi sto per mostrare Iniziamo subito con i capi perché sono veramente tantissimi Allora Primo sacchettino ce l'ho qui Allora ho scelto un XL direi perché c'è il bollino fuori Mi sa che ho scelto tutte taglie grandi Forse perché mi vedo una vacca ultimamente Comunque Allora Ho scelto un vestitino che è carino Verde Adesso vi faccio vedere meglio Ok Questo qui è il vestitino Con base verde con questi fiori Con queste stampe sul nero Abbiamo questo scollo a V E sulle maniche è fatto in questo modo Abbiamo anche un elastico in vita Morbidissimo direi Quindi ci stiamo benissimo Assolutamente È davvero carinissimo A me piacciono un sacco i vestitini Utilizzarli adesso Quando inizia a fare un po' più caldo Cioè io poi in primavera sono sempre con vestitini Adoro Altro sacchettino Qui c'è una cosina un po' più pesante E come vedete c'è qualcosa di leopardato Allora Mi sa che ho scelto un maglione Direi sì Un cardigan Eccolo qua Un bellissimo cardigan Caldo Ok Mi piacciono i cardigan fatti così leopardati Sono veramente molto carini Di questo qua ho preso una L Ed è su base chiara Non su base nera o marrone scura È veramente molto carina Morbido soprattutto Ok E questo è il maglioncino Davanti ai bottoncini E ovviamente lo proviamo insieme Di questi io Adoro anche non metterli abbottonati Ma tenerli sbottonati Proprio come cardigan In aggiunta Quindi mi piace veramente Veramente tantissimo Poi Altro pacchettino Ce l'abbiamo qui Allora L'etichetta dice Che è un XL Ok Allora Se mi ricordo bene Questo qui dovrebbe essere Un pantalone Sperando che mi stia Perché ve l'ho detto Mi sono allargata sui fianchi Non sto andando neanche in palestra Ve l'ho già detto Nei video precedenti Che Non sto più andando in palestra In realtà Saranno quasi due mesi Più o meno Allora Il pantalone è questo Fatto un po' Così a zampa Direi Un po' larghino in fondo Con questi bottoncini Sul davanti Ha una cerniera Ma io lo vedo già tanto rigido Quindi figuriamoci se mi entra In ogni caso Questo è il pantalone Non tanto Non tanto spesso Ma abbastanza leggerino Con questa riga sul davanti Sempre in nero Ho un raffreddore E una tosse Che lasciamo perdere Comunque Altro pacchetto Altro regalino Altro capo Allora Qui non mi ricordo Ah sì Adesso sì Allora ho scelto Una gonna Ok Pensavo fosse in pelle Devo dirvi la verità Molto leggerina Ed è in questo tessuto Che sembra un po' Uno di quei Sacchetti condominali Ecco bene Mi ci manca solo Sembra un sacchetto In condominiale Già mi sento una pattumiera Probabilmente questo In aggiunta Completa il mio Appunto Il mio Look Allora Donna con elastico in vita Con queste pieghine Molto molto carina In realtà Fatta così Bella Non vedo l'ora di indossarla In realtà È abbastanza leggerina Un pochino Trasparentina Ovviamente io la metterò Al momento Con le calze E poi Sicuramente Magari Verso la primavera Quando le calze Non le utilizzerò più La utilizzerò anche Senza calze Magari con una sneakers Sotto Super super bella Guardate che carina Allora Di questa qui Ho preso Non me lo ricordo Adesso ve lo dico Come taglia Ce la facciamo? Ho preso una L Altro pacchettino Vediamo Che cosa c'è all'interno Qui abbiamo Un capo di Emery Rose Eccolo qua Non mi ricordo Che cos'è Ovviamente Qualcosa di nero Poteva la Ale Non prendere cose nere Ok Ho preso un altro pantalone Complimenti Simile all'altro Tra l'altro Brava Bravissima Sei un genio Ok Allora Sicuramente questo mi entrerà Perché è stretch Rispetto all'altro Questo qui è più Elastico Insomma Qui abbiamo Un bordo alto Vedete Ok Fatto In questo modo Con i bottoncini Sempre dorati La differenza Rispetto all'altro Che è stretto in fondo Ok Ed è di questo tessuto Qui Ed è morbido Con ovviamente Un bottoncino In regalo Se si dovesse staccare Qualche altro bottone XL Io questo Credo che mi entri Suppongo Io direi proprio di sì Comunque Lo vediamo insieme In realtà L'altro mi piace molto Perché è Largo Sul fondo E mi piacciono tantissimo I pantaloni a zampa Però Tra una cosa e l'altra Poi Quando io li devo accorciare Tutta la zampa Sparisce Quindi non è proprio Poi bellissimo Comunque Vediamo Anche questo Come mi sta Altro capo Sembra che ho scelto Tutto nero Probabilmente così Ma comunque Non importa Allora Altro capo Di questo ho scelto Un XL Che cos'è Ah ok Allora Questo qui è Un vestitino Ok Vestitino Un tubino Molto lungo Vedete Un tubino lungo Nero Ok Molto morbido È proprio in cotone Ha questo scollo Quadrato Così bellissimo Ed è Veramente Morbido E stretch È proprio un cotone Fatto molto bene Questo vestito Mi piace molto Io ne ho di similari E ho anche delle gonne Prese in cotone Su shin Fatte così a tubino E mi ci trovo benissimo Ma volevo Anziché avere Gonne e maglia Differenti Volevo Un vestito unico E ne avevo già preso Un altro Sempre su shin Con il collo alto Invece lo volevo Comunque Con un pochino Più scollatino Perché Sapete la mia La mia noia Che ho Quando indosso Il collo alto Una roba Che non sopporto Perché sembra Che mi Non lo so Mi manchi l'aria E quindi a volte Li metto Proprio perché Mi piacciono Però Tendo sempre A mettere delle maglie Comunque con degli scolli Così o con degli scolli A giro collo Comunque in ogni caso Questo qui È quanto È un XL Spero mi sia Io questi qui Solitamente Li indosso Con un collant Di quelli Velati Magari anche Un po' Decorato Con gli stivaletti Tipo Dr. Martins Ok Tipo quelli che avevo Sempre preso Su shin Nell'ultima Collaborazione E quindi Indosso Quelli Mi piacciono Tantissimo Se in questa zona Adesso vedrete Dei rossori Cosa che stanno Già spuntando Perché sto togliendo Praticamente tutto il trucco È perché mi sto soffiando Il naso Ogni 3x2 Quindi Ogni 3x2 Sto stoppando il video Appunto per Soffiarmi il naso Allora Andiamo avanti Altro pacchettino Ok Questo dovrebbe essere Un cappotto E tra l'altro Credo di aver scelto Due cappotti Uguali Di colore diverso Presa un XL Ho scelto Questo colore Un color ruggine Che in realtà Non avevo Ma sinceramente Devo dirvi la verità Mi piaceva molto 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 carino Un pochino più strutturato Con i bottoncini Sul nero È una sorta Tra un arancione E un ruggine Molto carino Bottoncini neri Opachi Molto bello Ho preso appunto Come vi ho detto Un XL Adesso lo vediamo Insieme Indossato Mi piace veramente molto I cappotti di Shein Io li utilizzo Tantissimo Perché Sono fatti bene E quindi Mi piace indossare Tra l'altro Mi piace proprio Cambiare i colori Dei cappotti Anche con un total black Mi piace avere Il cappottino Magari colorato E Che stacchi un po' Insomma Dal solito nero Comunque Adesso lo proviamo insieme Altro pacchettino Allora Abbiamo una XL Di questo Non mi ricordo Sicuramente sarà un vestitino Ok Non mi sa proprio di sì Esattamente Allora Vestitino Ok Qui abbiamo Il nastrino Che va a richiudersi Sul collo Diciamo Di questa Fantasia qui Fatta tutta Con i fiorellini Molto carino Con il solito Elastico In vita Molto bello Questo vestitino Anche questo Messo con una calza Magari Scura Per ora Poi magari Con Dei camperos Piuttosto che Senza appunto Avere Le collant Quindi senza E per il momento Magari mettendo Veramente La cinturina A meno che Non mettiate Poi Un cardigan Magari Nero Sopra Però La bellezza Del vestito Cioè È bella Vederla Senza nulla Sopra Comunque Il vestitino È questo Molto carino Abbiamo Uno scollo A V Con L'elastico In vita Quindi anche Questo Molto morbido Ma guardate Che bel colore Che è Non abbiamo Ancora finito Bene Allora Altro pacchetto Di questo Ho preso Una L Non mi ricordo Assolutamente Che cosa Sia Un vestito Lungo Nero Perché non Ci facciamo Mancare Niente Ok Un vestito Lunghissimo Nero Allora Questo È Il davanti Con questa Sorta di Pizzo Sul davanti Le maniche Sono lunghe E il vestito È Veramente Lunghissimo Molto 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 Lungo Con questo Appunto Questa Non fantasia Questa struttura Sul davanti Molto carina Anche qui abbiamo Il discorso Elastico In vita Molto bello Boh Non pensavo A parte che è Lunghissimo Quindi anche Messo con Uno stivale È da Accorciare Assolutamente Perché È estremamente Lungo Ok Proviamo anche questo Vediamo come mi sta Altro pacchettino Io qui vedo Dei cuoricini Ho scelto Delle cosine Con i cuori Devo dirvi La verità Allora Di questo qua Ho preso Una XL Che cos'è Questo? Un maglioncino? Una maglia? Ma che carina Allora Queste sono un po' Come le maglie Che uso solitamente Con i cuoricini Sì con i cuoricini Scusatemi Con le maniche a sbuffo Sapete quanto ami Le maniche a sbuffo E quante maglie ho Simili Di tantissimi colori Anche estive Mi piacciono molto E questa qua È super carina Perché ha tantissimi Cuoricini Super colorati XL E la maglietta È così Io ho questi I tessuti di queste maglie Mi piacciono molto Devo dirvi la verità Perché Anche in lavatrice Si lavano bene E non mi hanno mai dato Nessun tipo di problema Altra cosina Con i cuori Li vedo qui Allora Questa dovrebbe essere Una gonna Allora Ho preso un XL Questa dovrebbe essere Sì una gonna È un vestito È un vestito È un vestitino XL Allora Manichina Corta Ed è fatto In questo modo Quindi abbiamo La parte sopra Nera E la parte sotto Con questi Mega cuori Giganti Rossi Bellissima È veramente Molto molto bello Questo Questo vestitino Sul davanti È fatta La manichina Intanto è fatta così Quindi con Un po' di sbuffo Fatto con queste Rouge Molto carine E poi abbiamo La parte sul davanti Con questo nodo Da chiudere Sul collo E sul retro Abbiamo la cerniera Appunto per Indossarlo Veramente molto molto Bello Non so se mi starà bene Devo dirvi la verità Sicuramente il cuore Mi allargano Tantissimo Poi come vi dicevo Appunto Ho scelto Due cappotti Uguali Ma di colore Differenti Infatti Ho preso L'ho preso Anche il nero Strano Capotti neri Non ne ho Anche di questa Un XL E il cappottino Anche questo È fatto in questo modo Come l'altro Esattamente Come l'altro Ma sul nero Ok Mi piacciono molto Io quello che sto indossando In questo momento Di cappotto nero È molto molto lungo Quindi mi arriva Quasi Alla caviglia E mi piace tanto Questo qua È un po' più corto Ovviamente Ok Però Va bene Va benissimo Poi Altro pacchetto Allora XL Anche di questo Non mi ricordo Che cosa sia Ma è qualcosa di nero Di nuovo Strano Ah che carina Sì mi ricordo Ok Allora Ho scelto Un blazer Un blazer nero Nero Semplicissimo Con le spalline all'interno Ma la particolarità Ce l'ha sulle maniche Perché ha Questi fantastici Cuoricini Fatti così Guardate che carino Che ha questo tessuto E la giacca È veramente Semplicissima Che più semplice Non si può Le tasche Ah no Le tasche sono vere Quindi abbiamo due tasche qui Le taschine sono vere Ok Pensavo di no E ha le spalline Un pochino più strutturata Però mi piaceva tantissimo Il fatto che avesse Queste Giromanica Con i cuori Altro pacchettino Qualcosa di bianco Strano Perché solitamente Non è Cioè E mi piace tantissimo Il bianco Però Lo metto poco Lo metto soprattutto In estate Ma questa è una maglietta Maniche corte Infatti Ho scelto una Di queste magliettine Con le maniche a sbuffo Con il collo Fatto così Squadrato Ho preso una L Se vi ricordate Io ho questa maglia Identica In colore Rosso Corallo Direi di sì Che appunto L'ho presa l'anno scorso Mi piaceva tantissimo Sempre su Sheen E quindi Ho deciso di prenderla bianca Perché mi piacciono fatte Così le magliette Con le maniche a sbuffo Quindi Il bianco mi piace molto Ovviamente Non quando Ho questo colore Mozzarella Un po' Cadaverino Ecco Ma quando sono un pochino Più abbronzatina Quindi questa qua Molto carina Altro pacchettino Questo video Durerà un eterno Perché Un'eternità Perché ho ancora Sei capi da mostrarvi No comment Allora Altro pacchetto Qui abbiamo Una taglia L Abbiamo il cinturino Anche qui Anche questo È un vestitino Che mi sembra Tra l'altro Di aver già preso L'anno scorso Spero di no Vestitino blu Quindi con base Biu Con questi fiori Bellissimi Manichina semplice Con l'elastico Appunto sul polso Scollatura AV Elastico In vita Molto carina Ma mi piaceva Tantissimo Appunto La fantasia Perché A parte che Sul blu Non ne ho Praticamente Di vestiti E poi Ha questa balza In fondo Super super bella Sempre Dallo stesso tessuto Con La stessa fantasia Però Appunto Questa fantasia Con i fiorellini rosa I bianchi Sul blu Trovo Stiano Veramente Molto bene Altro Sacchettino Allora Di questa qua Ho preso Un XL Ho preso Un vestito A fiori Che bello Allora È un vestito Semplice Direi Ok Un po' Strettino Direi Come 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 Forme Quindi ha un pochino Più Segue di più Le forme Un pochino Più Strettino XL Ed è Fatto In questo Modo Un po' Stretto Sul Sopra È un pochino Più largo Sul Fondo Del vestito Con questa Fantasia Appunto Con i fiori Veramente Molto Molto carino Devo dirvi la verità Veramente bello Questo vestito Sulla modella Ovviamente Stava benissimo Ma io Non ho Le gambe lunghe Come le sue Però Vediamo 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 un po' Come mi sta Spero bene E non male Ecco Poi Altro pacchettino Sempre qualcosa Di nero Strano Ho fatto un haul nero Meno male che stiamo andando Verso la primavera Complimenti Un altro pantalone Non me ne bastava uno E dicevo Vabbè Ne hai comprato uno Cioè Visto che dici che sei vacca Non te ne comprare altri Invece Ne ho comprato un altro E sono alla quota Di tre pantaloni In questo haul Complimenti Allora Pantalone semplice Con la vita alta Fatto un po' Forza palloncino Con queste tasche Che ahimè Secondo me ho fatto Non bene a prenderle E il pantalone Scende dritto Semplice Dietro un po' Di elastichino Però è una L Questa qua Figuriamoci Ma sono proprio Veramente Cioè Vabbè Il retro è fatto così Con le due taschine Non lo so Questa è una L Ho paura di no Tra l'altro Non è neanche elastico Questo Vabbè Speriamo mi stia Molto carino però Vabbè Vediamo Allora Siamo arrivati Praticamente Alla fine Perché ho solo questo Un altro pezzo Da farvi vedere Allora Di questo ho preso Una Aspettate che ve lo dico Una L E ho preso Un body Sì Un body corpetto Diciamo Strutturato Anche questo Con le coppe Praticamente Questa è da mettere Sotto le giacche Secondo me Sono sotto Sotto i blazer Mi piacciono tantissimo Comunque Molto strutturato Perché le coppe Sono imbottite E poi Ho un body Completamente In pizzo Solo con la parte Sotto Fatta in cotone Ok Hai bottoncini Di chiusura Ok Questo qua Sicuramente Magari ve lo farò vedere Indossato Ma All'interno Già di un pantalone Non mi metterò Con le ciapette All'aria Insomma Comunque Questo qua È veramente Molto bello Speriamo Che anche La coppa Mi stia E che non sia Stretto Proprio Per quanto riguarda Il pizzo Comunque Abbiamo il pizzo Anche sulle maniche Veramente Super super carino Questo ovviamente Non da mettere adesso Perché se mi dovessi mettere Questo Tempo di indossarlo Un secondo Sicuramente Mi viene di nuovo L'influenza forte Quindi Body Molto carino Lo metteremo Sicuramente Più là Perché non è Il tempo Non è ancora Stagione Ecco E come ultima cosa Ma non per importanza Anche questo sarà Sicuramente un vestito Ho preso una L E ho preso Sicuramente un vestito Direi Esattamente Carino questo Questo molto carino Vestitino Con la parte Di sopra nera Con La cinturina Da legare in vita Con questa parte Di sotto Di questa fantasia Qua Che già qualcosa Ho di Cioè così Forse un altro Vestitino Non fatto in questo modo Perché non mi sembra Di ricordarlo Ok Però Molto carino Sulla manica Abbiamo Un Polsino Super bello Mi piace Mi piace Quindi adesso Lo andiamo a provare insieme Vediamo Come mi sta Anche questo Quindi niente ragazze Spero che il video Vi sia piaciuto E vi abbia tenuto Compagnia Fatemi sapere Con un commentino Qui sotto Qual è il capo Che vi è piaciuto Di più E che cosa Vorreste acquistare Voi appunto Su Sheen Mi raccomando Vi aspetto sempre Qui sotto Nei commenti Mi raccomando Entrate in info box Perché vi lascio Codice sconto E link Relativi ai prodotti Che vi ho appena mostrato E nulla ragazzi Noi ci vediamo Prossimamente con nuovi video Continuate a seguirmi Mi raccomando Vi mando Tanti super mega bacioni E noi ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Ciao